La Regione Campania ha stipulato un contratto di fornitura con l'azienda che produce il vaccino Sputnik. Il contratto firmato prevede l'immediata esecutività dopo l'approvazione dell'EMA o dell'AIFA. L'obiettivo è quello di immunizzare 4,5 milioni di cittadini campani entro la fine dell'anno. Ad annunciare l'accordo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Nei giorni scorsi, dopo settimane di trattative, di confronto, abbiamo stipulato un contratto di fornitura con l'azienda che produce il vaccino Sputnik. È un vaccino che non è compreso fra i vaccini trattati dall'Unione Europea e quindi dall'Italia. Quindi è un vaccino aggiuntivo che abbiamo inteso prenotare proprio per avere i vaccini necessari per immunizzare 4,5 milioni di nostri concittadini con la doppia dose. Ovviamente è bene fare un chiarimento. Il contratto prevede che diventi operativo immediatamente dopo l'approvazione del vaccino da parte dell'EMA o dell'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco. Ci stiamo muovendo un po' sulla linea indicata anche da Draghi. Se non abbiamo le risposte che ci servono da parte dell'Unione Europea e da parte delle aziende contrattualizzate, è chiaro che andremo avanti anche da soli per la parte aggiuntiva che possiamo ottenere. Riteniamo che questa scelta che abbiamo fatto e questo contratto stipulato possa aprire una strada per l'Italia. Siccome investiamo risorse della Regione per avere un vaccino aggiuntivo, una volta coperte le esigenze dei nostri concittadini, metteremo a disposizione di tutti i nostri concittadini del nostro Paese la quantità di vaccini che dovessimo ricevere dalla casa produttrice dello Sputnik. Dobbiamo avere la possibilità di programmare con certezza le campagne di vaccinazione. Questo ovviamente vuol dire che l'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, deve essere richiamata a darsi tempi rapidi di decisione. Diamoci tempi di verifica e di decisione coerenti con l'eccezionalità della situazione.